parla ciao un po' timidino Giampi sei timidino ciao a tutti ragazzi questo è stato James Murray e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su GTA 5 online con Giampitech perché ho comprato GTA 5 a Stormy però Stormy non c'è mai porca troia quindi ne abbiamo aggiustata una ma non abbiamo concluso un cazzo e quindi mi devo accontentare beh il cervello non si può comprare no infatti esatto il cervello di Stormy purtroppo quello ragazzi pure 100.000 like però posso provare in Romania però di solito là vanno per la maggiore i reni i cervelli non so si riprendono poi per Stormy ce ne vorrebbe uno in tre aero in tre aero? in treno un in treno quando arriva in treno bello ho conservato zitto oh ma ti sei vissato che ho stai schifo di gare Giampi sono delle belle auto eh ma chi è Walleride al Neon è un altro clickbait devi fare no non è il clickbait questo di questa gara di oh no si sta scaricando la batteria capadosca quanto dura quando si scarica Giampi 15 giorni eh assai sicuro? ce la faccio a fare una gara Giampi si imprevisti madonna io più che altro eh ovviamente mi ero scordato sempre aprire le ruote quindi vabbè tu è l'nesima gara che facciamo ma tu non impai mai cazzo perché mo scordo però bello questi riflessi tutti blu sull'acqua ti piacciono? diciamo fanno un effetto un po' un po' estoril un po' retro ah disco pad disco inferno come fa la canzone disco inferno? pa disco inferno non lo so non facevo così ah no? no sono divertente Giampi ti chiedi in molo per favore bisogna di certezza nella mia vita minchia guarda tantissimo sono molto divertente sei molto interessante anche devo mettere le tag adesso basta con sto molto interessante non è che posso mettere i tormentoni di due mesi fa ma figlio di troia ma ne minchia si Giampi sto facendo una gara pressoché perfetta pressoché perfetta oggi ti piace come parlo oggi sono molto in botta Giampi io non so se questo video riuscirò mai a pubblicarlo perché ammetti che non dovessi sopravvivere oggi chi lo pubblica il video ma la prendo e la metto sul mio canale devo dirti una cosina no non me la dire e si me la stai per dire e si no non me l'hai detto ho vinto e ora carico pure il joypad perché sennò è allergia che è successo? mi fai allergia mi fai schifo a te a me? si no Giampi ma noi siamo in un costituiamo una sinergia oggi ti voglio ti voglio ubriacare un po' con questi termini così vediamo quanto regge il tuo cervello poco allenato capa già che se ti è effettato regge veramente poco loco 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 poi domani abbassati subito mi ha dato una finissi sbattere cose nelle pareti mannaggia quel por... ah signora non faccia arrabbiare il suo figlio wow Giampi il mio to sarà tutto cosa che ha sbattuto a muro perché tu si capisci ma perché non gli dici che sta ferma se no la faccio stare ferma io ucci no bagno una cosa positiva è che... ma che signi ce lo siamo dimenticati drums oppa guarda che non passo io mannaggia a quella bezza oh ma oggi chi si cretino compa si alza il coso come faccio a passare senza il tempo alla barriera vincia che centro ragazzi nemmeno quando ero un piccolo spermatozoo facevo un centro così bravo Io pure ho fatto un centro di cristo Mamma mia Giampi che bella gara Adrenalinica super contenti Eeeh Giampi Eeeh che è? A che parlavi in modo tutto forbito? A che ti è venuto un problemino? Parlo bene poi la tua presenza Frequentare te mi fa bene un problemino Sento il fiato sul collo Io di solito portavo pezzi sul collo Ma così mi sento solo fiato Io sentavo affetto di qualcuno che lascia la scia Oddio Oh no porf***a me la sono rischiata Giamp Oddio Che burro che burro No bandaggio alla Giampiero Giorgio non ci riesco io No ho spattuto Giampi Suca madonna santa No ma dai porca Mi sta stavendo un nervoso Mi sta stavendo un nervoso Mi sta stavendo un nervoso No compa credimi Mi sta stavendo un nervoso Addirittura compa Sei molto competitivo oggi Giampi Madonna Che è successo? Ti odio Un pochino di edelix è nato un po' Mi sentito Voglio fermi il video e montare Posso? Ma te lo monti stasera? Dai per favore non mi va Te lo monti stasera non mi rompo i coglioni No compa non mi va Allora non vieni Allora no vieni e non carichi il video Che se ne frega Oddio Giobs Giobs Giorgio ma l'hai scritto il testamento Giampi Oddio mamma mia Meno male che fai schifo Sei scarso come la merda Perché stavo per perdere X di lol E va vici Ho finito in riba Oddio L'hai Compa Sei arrivato vicinissimo Mi hai scritto il testamento Allora lo faccio adesso in video Io Sottoscritto Giorgio H.I.A. X.Murri H.I.A. H.I.A. Serie E Serie 1 E basta Eh compa te l'ho detto Sei un'allergia Fai schifo Sì compa sto odio sarò una merda Te lo devi pulire tu Sì vabbè compa Ma veramente Ma picchina finisci Cioè Ma come cazzo fai a avere 760.000 iscritti Come fai a prende 800.000 Avere Porco Oh give your cara boost Giampi Quello che dovresti fare Mamma mia Sì Porco Che significa Ma tu stai andando dritto Oh Giampi Non ne so mai chi Giampi Giampi Dove sei Se scennisca la camaglia Giampi Tu l'hai preso il primo Dai serio Ma quando mai Tu sei di mozzate per caso Porca droga Lo sapevo che era da qua Last Fatto Ciao Era un trulls Giampi Si parte dall'inizio Giampi Devi partire dall'inizio C'è un boost sotto Oddio Oddio Porca Mi sta bene un cazzo Che fai Voglio ammazzare Volei preso almeno il primo Si Che cosa fai? Merda a piedi ci sta andando Giampi Non puoi mar- Giampi Stai filoso delle armi Prima di comprartele E ora? E ora Stai affrontato Stagare mi sta facendo bene un problema Te lo giuro Quanto c'è il quinta? Tu l'hai preso il secondo Il terzo Si L'ho preso il terzo Tu Ma porco Basta Basta Bene vado Ciao Giampiero Alla prossima Mi sta sottiano Te credimi? Buon voyage Alla war Mamma Mi sta irritando come Cristo Come ci passo di qua? Salto Si esatto Tutta cave di scarpe le pari Tutta cave di scarpe le pari Lo last E' una gara molto complicata Giampi Non è per gente stupidino come te Vedi devi usare il cervelletto Come vuoi questa playlist La stai prendendo tutta? Perché non sono in forma Mi sono appena sveglia Non sei un if Sono un toti Toti Francesco toti 13 su 19 E zombie no Non mai Intanto devo ancora fare la preview Vabbè tranquillo un po' Alzati più tardi Non me l'hai fatto un cazzo Non me l'hai fatto un cazzo Non me l'hai fatto un cazzo Come minchia voglio Capirà Ma allora dimmelo che sei un ribelle Che io lo capivo subito Cioè io ti ho trattato finora da persona normale Ma se tu mi dicevi che sei subito un ribelle Io lo capivo Come The Brave E i capelli rossi Ti giuro ti auguro tutte le malattie Giampiero Il tuo audio è tutto bordello Bestemmie Malattie Basta Giampiero Basta Ma un nemichio decisivo è bastardo Ma Mancava a fare veramente Ragazzi scusate se oggi sono così Volgare Solitamente non sono così Lo sapete Però ho mal di testa Quello che devo andare a fare più tardi Non mi va Non mi va per niente Dov'è? Non lo so Forse lo so Minchiai su Sì Mi sto sparando Ti odio Ti odio Giampi A piedi Come un perdente 3 su 3 persa Complimenti Giampi Quindi ragazzi Questo è il episodio di GT5 Loco 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 Di GT5 online Finisce qua E ringraziamo Giampi Per aver dato il peggio di sé Quest'oggi Rimanete sintonizzati sul mio canale Perché a breve arriverà lo speciale 800.000 iscritti E noi ci vediamo Al prossimo video Woo